Ciao a tutti, sono Simone e questo è il mio canale. È da tantissimo che non parlo in un video e l'ansia mi sta mangiando viva, letteralmente, non siate in menti. Oggi vi mostro in breve la creazione di uno dei miei ultimi lavori. Per gli appassionati avranno già capito di chi si tratta dall'antirrima e dal titolo, ma per chi non lo sapesse si parla della protagonista di uno dei primi mini giochi di Final Fantasy IX, la dolcissima bambina del salto alla corda, commissionatami per sgarbo e promemoria della frustrazione. In questo caso non vi riassumo i vari passaggi del lavoro perché non si tratta di un tutorial, ma se volete un video opposta, più dettagliato su come fare le strutture, domande, info, eccetera, quello che vi pare, chiedete pure e sarete accontentati. Buona visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.